non ho capito nel pomeriggio dici che riesci a venire Michi Nodo allora hanno già anche Fabio doveva venire dai che sono tornato in bici dopo le costole Tuffetto, Grecchi e Gabriele, detto Maurizio giornata organizzata da Toselli per l'apertura Bike Freelance a Brescia scarrellata in madda Anderiosky cos'hai da dire? che manca oggi il nostro amico Fabri peccato che avrebbe giordito sicuramente con un con una Susi testare costole, spalle, gambe e sembra anche bella umidiccia Ardum ma si ci fermiamo lì tanto avendo gli shuttle vai Anderiosky se non vai te sei local tempo che caricate le bici sei local piano Anderio sbaglio hai già tirato il jolly piano anderiosky piano anderiosky piano anderiosky Sì, è tirato giù sulla prima curva È marco Vai Gabri, che tiene Sì, è tirato giù la prima curva 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 Porca troia Sì, è tirato giù la prima curva Sì, è tirato giù la prima curva Sì, è tirato giù la prima curva No, ho visto andare due tre volte Sì, è tirato giù la prima curva Sì, è tirato giù la prima curva Ah, la fa easy adesso? Sì, è tirato giù la prima curva 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 Madonna che pacco Madonna Madonna Mi stavo impacchettando a te E ho sganciato il pedale proprio sulla pietra Quella che stai tutta a destra, lui ti hai perso il pedale, mi sono fermato lì eh, vai vai Andre Sto andando opposta eh, dai pedala, pedala C'è un po' che taglia tutto qua Oggi non si parla, solo sofferenza Andiamo a ritrovare un po' il ritmo Giolino Vai coi fanghi Snoop Dogg Pesantina eh, l'e-bike Come va Fabio, servizio shuttle? Eh, faticoso Faticoso anche con lo shuttle Siamo sudati Servizio topo però bisogna ringraziare Toso I per la terza discesa Figa è me c'è la gebba eh Eh c'è il fango Dai vieni però che dopo no, chainless Il sacro graal cos'è che andava, l'antico vaso andava trovato Per me non è la tua Aspetta 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 Ah per me sì invece Manca la falsa maglia Eh ma ce la vai tu Eh ma ce la vai tu Vabbè ascolta ciao Per portacai intanto Ah magari hai tolto lo zaino e ti è caduto per terra Ah Terzo round Sulla 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 Arrivo You're all welcome Wihi Che dada Figa qua è peggiorata la situazione Il Maui mi sa che è andato dritto Ha sentito un face palm E mi sa che qua finiamo di girare Qua diventa rischiosa Adesso girare Quindi me ne vado davanti da solo Così Non rischiamo Di beccare nessuno Occio Occio Vai 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 Madonna Stai facendo la pollata Rai Vale Ma adesso Il nostro passione Guarda è entrato un chilo di terra oh no qua occhio sono un po' rischiata in questi 10 metri ci facciamo l'ultimo studio di giornata perché le condizioni iniziano a essere impietose e anche un po' rischiose purrito di naso o no adesso anche oggi siamo salvi che ormai è un gran risultato ma potevi farmi girare la ruota mi scivola il culo della serie non c'ha neanche 40 anni si fa portare su e tornati al negozio non la vuoi un po' di nutella la spalmella peccato che manca fabri e si torna al lavaggio dopo anni di secca come lava lui le bici nessuno è bella bici per me come genere stile di bici sicuramente mi fanno uno stile di bici così uno di prova adesso no va bene eliminazione diretta guarda uno due guardalo sta tirando dietro l'altro è la mia lascia screddata ok 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 dai filo delle probe guardali Grazie!